Una delle caratteristiche del paese sono i nomadi. Vero popolo nel popolo, la comunità nomade iraniana è costituita da infinite piccole tribù che si spostano continuamente per inseguire le stagioni. Questa che incontriamo è composta di poche decine di persone che hanno impiantato un campo perfettamente attrezzato. Qui svolgono numerose attività, sia per il loro fabbisogno, sia per la fabbricazione di materiali artigianali da vendere in città. I riti sono quelli antichi e ripetuti da millenni, quelli cioè ingegnati dall'uomo quando non disponeva di alcun motore al di fuori di se stesso. La fabbricazione del burro e del formaggio, la filatura della lana, eseguita con straordinaria abilità. Un'altra comunità la scopriamo a centinaia di chilometri dalla città più vicina. Un'altra comunità la scopriamo a centinaia di vicina. Grazie per la visione!